Anticipazione una vita. Martedì 4 agosto 2020. I Dominguez incontrano Alfredo Bryce che senza esitare e con un sorriso beffardo concede loro un prestito per investire nella banca americana. I Palacios salutano Milagros che ritorna finalmente a Parigi. Ramone e Antonito discutono ancora per aver venduto il brevetto delle macchinette da caffè. Tra loro c'è molta tensione. Felipe informa Fabiana e Ussola dell'operazione cui sarà sottoposta Augustina. Nella stanza la cameriera riceve una visita molto sgradita, quella di Enoveva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.